Sette nuove destinazioni da e per l'aeroporto d'Abruzzo e quanto propone Ryanair dopo aver incassato il sì al taglio dell'aumento delle tasse aeroportuali da parte del governo Renzi. Aumento che aveva determinato ad ottobre dello scorso anno la decisione di voler abbandonare lo scalo regionale abruzzese. Dublino, East Midlands, Valencia, Marsiglia, Vilnius, Varsavia e Cracovia. Queste le rotte che si andrebbero ad aggiungere alle attuali Milano, Francoforte, Londra, Bruxelles, Barcellona e Dusseldorf solo per l'estate e poi Bucarest, Torino, Tirana e Spalato. Dalla rosa di nuovi voli presentata da Ryanair, regiona abruzzo e saga dovranno selezionare quelle di maggior interesse per il movimento turistico. Probabilmente il discorso più interessante riguarda l'est Europa. L'aeroporto di Pescara potrebbe porsi finalmente come vera porta verso l'oriente del vecchio continente, cioè verso la capitale polacca Varsavia e verso Cracovia, centro importante, anche perché custodisce la tela di Leonardo da Vinci, la dama con l'ermellino. E poi c'è la capitale della Lituana, Vilnius, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma potrebbe essere importante potenziare anche il collegamento con l'oltremanica post-Brexit, East Midlands e l'aeroporto inglese che serve alle città di Leicester, Derby e Nottingham ed è situato a 60 km da Birmingham, seconda città della Gran Bretagna. E in questo senso Ryanair spinge anche per il collegamento con l'aeroporto di casa, Dublino. Infine le ultime opzioni più mediterranee, il ponte con la Spagna e con la Francia, potrebbe essere potenziato se si scegliessero Valencia e Marsiglia, quest'ultima già capitale della cultura nel 2013. Da oggi dunque si apre la trattativa con la regione, che ha messo sul piatto anche un bando da 2,5 milioni di euro per la selezione delle compagnie aeree nazionali ed estere, per la realizzazione di un progetto teso a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo. Infine, nella trattativa la saga potrebbe cercare di inserire alcune destinazioni che ad oggi non sono presenti, Monaco e Berlino in Germania, la Sicilia con Catania, ma soprattutto Roma Fiumicino, diventata centrale per mantenere il collegamento con l'Hub nazionale dopo lo stop al volo di Alitalia e Tihad. Tutta la partita ora si giocherà sulla concessione delle provvidenze concesse dalla recente normativa europea in merito agli aiuti di Stato.